Il Comune dell'Aquila ha impugnato la prescrizione della Sfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali, che aveva imposto a lente la sostituzione delle quattro funi portanti della funivia del Gran Sasso e il ricorre in tribunale, chiedendo pure il risarcimento danni. L'obbligo era contenuto nel provvedimento di nulla osta tecnico, con il quale l'Agenzia aveva dato il via libera lo scorso 11 gennaio e la riapertura al pubblico esercizio. Il 23 gennaio l'amministrazione aveva inviato un'istanza specifica all'Agenzia, finalizzata in allunamento e al ritiro in autotutela della disposizione sulla sostituzione delle funi. La vicenda della funivia ha scatenato una marea di polemiche, ma ha anche prodotto un danno economico e d'immagine alla montagna aquilana. L'esercizio era stato bloccato dalla Sfisa dopo l'esposto di un privato cittadino, che evidenziava delle riserve sulla sicurezza delle funi, di una in particolare. Poi il pubblico esercizio era stato di nuovo autorizzato con alcune prescrizioni, oltre a questa delle sostituzioni delle fune. Questo in anticipo rispetto alla scadenza del 2028 come anno per la naturale sostituzione e fine del ciclo vitale delle funi. Poi c'è stata pure la comunicazione della regione Abruzzo per l'interruzione della funivia dal pubblico esercizio dal primo maggio. Quando si parla di sicurezza c'è bisogno di certezze. Noi non lo facciamo per non sostituire le funi della funivia del Gran Sasso, lo facciamo proprio per sapere esattamente cosa dobbiamo fare, se rispettare la legge oppure andare dietro a delle suggestioni che non sono supportate da norme concrete. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte, naturalmente perché l'incolumità dei turisti, dei visitatori, degli operatori del Gran Sasso viene prima di ogni altra cosa, però lo vogliamo fare in un quadro di provvedimenti che diano indicazioni univoche. Ecco anche reperire insomma risorse importanti in pochi mesi non sarebbe un'impresa facile? No non è un'impresa facile però lo faremo come abbiamo sempre fatto perché con l'attività diciamo di salvaguardia dei conti pubblici siamo riusciti ad avere un bilancio in salute e quindi anche a costo di sforzi possiamo reperire le risorse. Quello che è importante è che ci siano dati dei tempi giusti perché le funi vanno costruite, sono come un abito che si fa su misura, per farle ci vuole circa un anno e non possiamo certo permetterci di interrompere le attività sul Gran Sasso per un anno.